Tra le ultime segnalazioni c'è anche un servizio della nostra trasmissione SOS Arezzo TV riguardo un cimitero di auto e rifiuti pericolosi, una vera discarica a cielo aperto in un terreno privato nella zona di Via Tarlati. Dopo il nostro servizio e la segnalazione da parte di Mary Stella Cornacchini, adesso l'area è sotto sequestro. È lei dunque consigliere comunale di Oraghinelli la paladina della lotta al degrado ad Arezzo. Arrivata in politica quasi per caso attraverso comunque un'associazione che si occupava proprio di lotta al degrado e il partito delle Cicale, Mary, come tutti la chiamano, ha mantenuto le promesse. In politica di questi tempi è davvero una notizia. Non mi interessano le poltrone, aveva detto in una delle poche interviste rilasciate alla nostra TV. Voglio lavorare per Arezzo. E così è stato. Nel 2016 sono state ben 270 le segnalazioni ricevute e quasi il 95% ha avuto una risposta, come ricorda la stessa Mary, in un comunicato stampa. Desidero ringraziare, dice il vice sindaco Gianfrancesco Gamurrini, l'assessore Marco Sacchetti, la Polizia Municipale e gli uffici per la tempestività con cui si sono sempre adoperati per risolvere i problemi emersi a seguito delle segnalazioni. Davvero un bel risultato che testimonia quanto possa essere effettiva la collaborazione tra cittadini e amministrazione.